Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video ovviamente questo è un benchmark dove mostro FPS e test delle temperature ma se volete la versione la trovate in descrizione come T-Launcher ovviamente sto facendo un benchmark con la distanza di rendering 25 chunk distanza di simulazione 15 chunk e come shaders PSL versione 8.1.0.2.3 quindi in questo caso io ho fatto questo grande benchmark per vedere un po' quanti FPS sto facendo su Minecraft però se volete la versione di 1.19.3 la trovate in descrizione come T-Launcher quindi scaricatevi il T-Launcher, fate il login, fate l'accesso, tutta la registrazione e tutto e una volta fatto ragazzi siete dentro potete anche e quindi potete anche giocare a Minecraft potete scegliere qualsiasi versione che vogliate voi e niente potete giocare tranquillamente senza problemi e quindi ragazzi se volete godervi il video fino a 24-30 minuti di video di benchmark accomodatevi pure e io vi saluto qua quindi se avete problemi con il link ragazzi entrate nel server Discord che vi dico come fare e vi mando direttamente io il pacchetto quindi vi saluto per questa versione ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo video ciao 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 ciao